Una due giorni a tutto rock sul lago di Pusiano, l'11 e il 12 luglio torna il Busca d'Ero Day, consolidato appuntamento estivo con la musica d'autore. Tanti nomi che anche quest'anno calcheranno i due palchi principali tra Palazzo Borne e il lago, da mattina a sera. L'ospite principale, l'headliner è James McMatry, unica data italiana, anzi unica data europea, quindi viene apposta in Italia per questa sola data ed è la prima volta assoluta che questo straordinario artista texano arriva in Italia. James McMatry è sicuramente anche un po' un simbolo di quello che è il mondo del Busca d'Ero, quindi il country rock, il folk, la musica tradizionale e popolare, ma anche proprio il rock più classico. In cartellone anche Chris Jagger, fratello del celeberrimo Mick, e ancora l'americano David Curley, da Santa Fe i Brothers Keeper, super band capitanata da Iono Manson, artista molto conosciuto in Italia dove viene spesso a suonare e dove ha intrapreso di recente una collaborazione con Edoardo Bennato. Ho registrato un adattamento dell'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Adesso abbiamo questa collaborazione e infatti in questo tour lo vedrò e sembra che di qui di là suoniamo un po' insieme, magari anche qui a Busca d'Ero Day.